Le verdure a foglia verde, ma non solo quelle verdi, in effetti hanno una superficie esposta all'esterno particolarmente ampia e questo favorisce anche la concentrazione di nitrati, sostanze che abbiamo nell'ambiente e soprattutto le troviamo in maggior quantità nelle verdure coltivate in modo intensivo, dove si fa ampio utilizzo di concimi chimici. Meglio da questo punto di vista scegliere verdure biologiche che di nitrati ne contengono meno.